Nelle 15 numero 118 e 141 ci sono? Al cancello andremo a spezzare tutto a destra, staccando le mani, gira, gira tutto, aspetta ad accelerare, frena, frena, ok, mani fissano ad un quarto, andiamo, cresci col gas e stai a sinistra, seconda, guarda interna e gira, guarda interna di nuovo e gira, stai a sinistra con un po' di acceleratore, guarda già la curva successiva, allarga e cresci col gas, guarda la S senza frenare, dritta, 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 cerca di raccordare, guarda interna, gira a destra, apri, guarda di nuovo interna, accelera, pieno gas, frena, guarda la curva, chiudi, 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 apri, vai a sinistra, di nuovo guarda il cordolo, stringe, di nuovo interna, chiudi, chiudi bene, gas, frena, gira, chiudi, te a sinistra, guarda la prossima, guarda in anticipo l'uscita e vai, guarda interna a destra, gira, gas, pieno gas, frena, apri, e ci prepariamo a rientrare, stando a sinistra, a se ci passano a 488, no, rientrano anche loro, ok, è emozionante, divertita, si, un po' mi hanno trompato l'inocchina, eh, mi hai dato bene, brava, grazie, guarda bene, più della terza, non sono andata, la prima, ma su questo circuito, è inutile andare su marcia alta, non avresti sfruttare un motore, a merito, ci fermiamo qui, e da fermi, tiriamo tutte quelle pareti, ciao